Casa abbinata con cucina, sala da pranzo, soggiorno, due camere da letto, bagno finestrato, ripostiglio e tutta un'area al piano terra di servizio che può essere utilizzata come tavernetta o come seconda cucina e con varie stanze che possono essere utilizzate come ripostigli o camere o studi con un bel giardino indipendente tra faenza e cotignola Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questa casa abbinata in vendita Grazie a tutti Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito Perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri Ci vediamo in visita